Ciao da AFSIM! Tanti auguri presidente, buon compleanno presidente, bellissimo presidente, bravissimo presidente, presidente eccezionale, presidente modello, presidente straordinario, presidente eccellente, l'ho già detto, lo diciamo, presidente incredibile, il miglior presidente del mondo, il miglior presidente della storia. Bello, bravo, perfetto presidente, perfetto, tanti auguri, tanti auguri di buon compleanno presidente Andagna, presidente Andrea Agnelli e grazie, e sentitamente grazie, 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 grazie per tutta questa bellissima, bellissima sofferenza, come hai predicato soprattutto negli ultimi tempi alla Juve, bisogna soffrire, amare, lottare, sudare, spazzare la palla in calcio d'angolo e vincere, sudare, sudare, soffrire, vincere, quindi grazie per tutta questa sofferenza con la Juventus che rischia un processo sportivo, con la Juventus che rischia delle condanne, con la Juventus che intanto è calpestata a livello di immagine, non perché qualcuno la vuole calpestare, ma perché sono state fatte e dette delle cose anche da questo presidente, con una Juventus che non si sa che fine farà, se sarà venduta, non sarà venduta, sarà venduta in parte, chi sarà parte del prossimo progetto, se ci sarà la necessità di svendere i calciatori e ne parleremo, grazie, in una parola grazie, buon compleanno presidente, come dice la Juve, come dice la Juve, come ha postato la Juve sul suo sito e sui social. Ora, oggi è 6 dicembre, quindi, che sarebbe stato il compleanno di Andrea Agnelli? Lo si sapeva, non è che c'era bisogno di aspettare i post social e web della Juventus per capirlo e per fare due ragionamenti. Aspettare, invece, è servito per capire come, come hanno augurato buon compleanno ad Andrea Agnelli. Tra l'altro, curiosamente, domani 7 dicembre è il compleanno di Gianluca Ferrero, cioè l'attuale presidente della Juventus. Ma, appunto, chi è il presidente della Juventus? Chi guida oggi la Juventus? Che cos'è oggi la Juventus? Sono queste le domande che ci sorgono nel momento in cui guardiamo, leggiamo quello che è stato scritto, quello che è stato postato. Cioè, la Juventus che fa gli auguri ad Andrea Agnelli? Che Juventus è? Chi si cela dietro questa Juventus? Chi dirige questa Juventus? Chi la rappresenta? Queste sono le domande. E, appunto, vedremo anche domani come saranno fatti gli auguri al nuovo presidente Ferrero, ma, appunto, dobbiamo subito precisare che, in realtà, Andrea Agnelli è presidente. È ancora presidente della Juventus. Perché è presidente di missionario, ma in regime di prorogazio, fino al 18 gennaio, il presidente della Juventus è Andrea Agnelli. Il vicepresidente della Juventus è Pavel Nedved. L'amministratore delegato resta, comunque, arriva bene. In realtà, non è che sia proprio tanto presidente Andrea Agnelli, ma, di fatto, cioè, formalmente, la carica sta lì. Abbiamo, però, un direttore generale che è Maurizio Scanavino e abbiamo un nuovo presidente che è Gianluca Ferrero, che, comunque, hanno i loro ruori, i loro incarichi, le loro operazioni, la loro operatività. Stanno facendo cose. Interessante sarebbe capire quali cose e che cosa, perché non ci stanno dicendo nulla, non sono apparsi, non hanno fatto dichiarazioni. Ecco, proprio perché siamo in una situazione, forse, di passaggio. Ma c'è da capire, veramente, chi sta guidando, in questo momento, la Juventus, che sembra una macchina neanche allo sbando, proprio abbandonata in discesa, quindi ad andare, praticamente, per inerzia, a sbattere contro qualunque ostacolo. Speriamo che qualcuno riesca a recuperarla e a rimettersi al volante per dare una direzione, qualunque essa sia, e poi la valuteremo. Ma veniamo, allora, ai post social. Il tweet notturno, inevitabile, quindi, atteso, non c'era, ripeto, non c'era neanche da scandalizzarsi, e parliamo anche delle reazioni, ma prima vediamo che cosa c'è scritto nell'articolo, quindi, buon compleanno, presidente, c'è una foto di Andrea Agnelli, vai a premere sul link, apri l'articolo, c'è una foto di Agnelli, la stessa, che campeggia enorme, con, sopra la grafica, buon compleanno, presidente, e la prima cosa che noti è che c'è scritto 5 dicembre 2022. Quindi, hanno fatto gli auguri ad Agnelli il giorno prima. Cioè, hanno preparato, non sono stati in grado di programmare l'articolo perché fosse datato 6 dicembre. Complimenti, complimenti. No, bravi, eh? No, veramente bravi. Quindi, resta così, buon compleanno, presidente, 5 dicembre 2022, che non è la data. Ma comunque, questo però già suggerisce che cosa? Suggerisce, forse, una certa frenesia, frettolosità, una certa, come dire, apprensione, proprio, per andare a postare questi auguri di buon compleanno. Come se si dovesse fare in fretta per evitare che qualcuno se ne accorga che stava uscendo questa roba. Ma leggiamo, ma leggiamo. Buon compleanno, presidente. Oggi è il compleanno del nostro presidente, Andrea Agnelli. Ecco, oggi, 5 dicembre, in realtà sarebbe il 6, e va bene, il nostro presidente, Andrea Agnelli. Cioè, anche, cioè, già qui, il nostro presidente, eh? Il presidente di missionario, Andrea Agnelli. Cioè, già, già si parte male. Dovrebbe esserci, cioè, io capisco tutto quello che volete, ma avete avuto 12 anni per fargli gli auguri di buon compleanno accorati, sentiti, proprio imbevuti di, non lo so, sensazionalismo, di perbenismo, di sdolcinati, quello che volete. Avete avuto 11-12 anni, capita adesso che si è dimesso il nostro presidente. Il presidente, e oggi ricorre il compleanno, il 47esimo compleanno, del presidente di missionario della Juventus, Andrea Agnelli. Cioè, una comunicazione un po' più formale e distaccata? No? Vista la situazione? Ma proseguiamo. Non è un giorno come gli altri, non in un momento come gli altri. Allora, che non sia un giorno come gli altri, va bene, nel senso che, ma non perché è il compleanno di Agnelli, non è un giorno come gli altri, proprio per quello che stiamo vivendo, ma lo stiamo vivendo per colpa di chi? Per colpa di chi? Eh, non è un momento come gli altri, per colpa di chi? Del nostro presidente. Vedi, Rigo sopra. Vedi, Rigo sopra. Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si dirà ancora. Quello che vogliamo dire oggi noi, gente della Juve, per mutuare un termine caro ad Andrea, è semplicemente grazie. Noi chi? Ma noi chi? Ma gente della Juve, chi? Un termine. Gente della Juve sono tre parole, quindi non è un termine, ma ammesso che sia un termine, caro ad Andrea, ma Andrea chi? Tuo fratello, tuo cugino, ma di cosa stiamo parlando? Questa è comunicazione istituzionale. Gente della Juve è una frase che ha utilizzato solo lui, nel 2011, quando fu inaugurato lo stadio, e qualche altra volta. Non è stato in grado di trasmettere questa frase, questo modello, questa identità ai tifosi, quindi è una cosa posticcia. Noi tifosi non ci identifichiamo come gente della Juve, è una cosa che ci viene appiccicata, lo dice lui, gente della Juve. Quindi, che cosa? Noi, gente della Juve, chi? Chi sta parlando? Chi sta scrivendo? Io non sono rappresentato, io non faccio parte di quel noi, io non faccio parte di quel gente della Juve, e credo anche molti di voi non si sentano rappresentati in questo senso. E voglio dire grazie. Ma scusate, ma già avete fatto il post per Agnelli che si è dimesso con il ringraziamento, non è stato fatto? Dovevate aspettare il compleanno per farlo? E se il compleanno fosse caduto ad aprile prossimo, o magari a settembre prossimo, cosa avreste fatto? Avreste scritto la stessa cosa? Cioè, allora, questo post è contaminato dal sentimentalismo del momento. dal sentimentalismo del momento. Allora, vi sembrerà esagerato la mia reazione, ma da tifoso, in una comunicazione istituzionale, mi aspetto altro. Mi aspetto altro. E dopo veniamo alle considerazioni di chi è la Juventus oggi. Proseguiamo, perché ce n'è ancora. Mentre si sfogliano le pagine dei giornali, che poi si sfogliano sempre, non è che si sfogliano solo in questo periodo, si rischia di perdere di vista altre pagine, quelle dei libri di storia. Ma io veramente, vi giuro, c'è da sbattere qualcosa e da distruggere qualcosa. Ma le pagine dei libri di storia verranno scritte dalle pagine dei libri dei giornali. Cioè, dalle pagine dei giornali. Le pagine dei giornali che stiamo leggendo saranno storia e sono già storia. Quindi, che facciamo? Facciamo una separazione tra quelle che sono le pagine dei giornali di oggi e quelle che sono i libri di storia del passato. Perché? Sulla base di cosa? Di una preferenza? Perché preferite la narrazione bella dei libri di storia? Disconoscendo che però in quei libri di storia mancano le pagine che stiamo leggendo oggi sui giornali. Perché non sono state scritte o non sono state considerate perché si è andati avanti a giustificare tutto. E siamo sempre al solito discorso. Per giustificare Andrea, bello e bravo, gente della Juve, la storia è stata scritta in maniera distorta. Perché non si è scritto quello che stavano facendo sotto altro aspetto al di là dei trofei. Quindi, che significa le pagine dei giornali e i libri di storia? Della serie giornali brutti e cattivi. Voi che leggete si scrive, si è scritto, si è detto e tanto si dirà ma grazie ma i libri di storia ma di che stiamo parlando? Ma che cos'è questo? È un atteggiamento di assoluta reverenza, un atteggiamento appunto della solita, del campare di rendita, della riconoscenza che è nociva ancora e stiamo ancora cercando di capire, di scoprire che cosa succederà. Metti che poi vengono pure condannati, che facciamo? Questa sarà un'altra ennesima pagina di storia distorta a questo articolo, questi auguri di buon compleanno. Una storia che lega da quasi un secolo il nostro club a una famiglia, decenni nei quali la Juventus è diventata leggenda per poi consolidarla ancora dal 2010 in poi grazie a un'era senza precedenti in campo e fuori. Tutto questo è possibile se alla base c'è una visione chiara, netta, precisa. Una visione. Andrea Agnelli quella visione non ha soltanto dimostrato sempre di averla ma ne ha fatto una cifra distintiva prendendo per mano la Juventus verso un orizzonte fino a poco tempo prima impensabile in campo e basta scorrere un palmarès troppo lungo per non rischiare di dimenticare qualcosa e fuori. Tutto quello che oggi è sotto i nostri occhi e dopo qualche anno appare quasi normale come ad esempio una nuova identità visiva come nuove e moderne infrastrutture come lo sguardo a mondi altri dal calcio come progetti sportivi mai visti prima in Italia è frutto di quella visione una visione che aveva e ha la spinta al futuro come suo tratto distintivo perché per usare un altro concetto caro ad Andrea dopo una vittoria si comincia già a pensare alla prossima non disperderemo questa lezione è il modo migliore per augurare buon compleanno al nostro presidente allora cioè chi l'ha scritta sta roba no davvero io credo di sapere chi l'ha scritta secondo me è stato Claudio Albanese responsabile comunicazione di Juventus che infatti lui che non twitta mai ha twittato il link a questo articolo stamattina su twitter quindi Claudio Albanese che sappiamo benissimo essere un fedelissimo di Agnelli sta lì da tanti anni quindi è inevitabile che sia passata perlomeno tramite lui questa cosa se non l'ha scritta direttamente lui quindi o l'ha scritta o l'ha dettata o l'ha autorizzata e se ne è freggiato anche su twitter buon compleanno presidente ma quindi ripeto siamo schiavi di personalismi cioè c'era una necessità soggettiva di Claudio Albanese di pubblicare questo tipo di auguri di buon compleanno al suo presidente perché nostro di chi mio no mio no e non lo è già da tempo figuriamoci adesso e si è fatta sta roba perché un domani che Claudio Albanese non dovesse essere confermato non lo so ipotizzo può succedere come responsabile comunicazione di Juventus almeno ha salutato degnamente il presidente cioè di che parliamo cioè ripeto qui uno deve svolgere il suo ruolo il ruolo di Claudio Albanese o di chi ha scritto e pubblicato e deciso di pubblicare questi auguri di buon compleanno dovrebbe essere il ruolo di gestire la comunicazione istituzionale di Juventus non di fare bella figura con Andrea non di di fare l'augurio di buon compleanno a un amico perché glieli fai su whatsapp gli auguri glieli fai in privato gli scrivi ma ti compri una pagina di un giornale e gli fai gli auguri beh ti compri uno spazio un bel un bel tre per sei sei per tre in città e gli fai gli auguri come si fa in alcuni casi non c'è bisogno oppure oppure telefoni a una radio e dici vorrei fare gli auguri di buon compleanno ad Andrea se potete mandare la canzone che tanto gli piace così fai gli auguri non c'è bisogno di occupare lo spazio istituzionale di una società gloriosa per questi personalismi ex ormai società gloriosa non l'è più ma ribadiamo ma vediamo che cosa è stato scritto c'è una visione ma qual è la visione di questo presidente qual è stata la visione di questo presidente di andarsi ad accartocciare da solo vengono fuori le intercettazioni in cui lui era il primo a dire abbiamo fatto troppo più di quello che potevamo oltre le nostre possibilità per essere i numeri uno e si parla di visione chiara netta e precisa esoneri di allenatore così a caso acquisti fatti senza senso progetti saltati prima ancora di prender piede soldi spesi e sperperati questa è la visione chiara netta e precisa e poi una cifra distintiva di Andrea questa visione la Juventus che è arrivata dove prima era impensabile dove è arrivata la Juve cioè perché perché la Juve è arrivata dove prima era impensabile perché abbiamo vinto nove scudetti consecutivi indubbiamente era impensabile vincere nove scudetti consecutivi e vincere così tanto ma non stiamo parlando di qualche cosa di incredibile perché non ci abbiamo messo manco mezzo trofeo europeo nel frattempo forse due mezzi sì visto che le finali vengono considerate come trofeo facciamo che sono due mezzi trofei quindi forse un trofeo europeo l'abbiamo vinto il trofeo delle due finali perse sette a due tra l'altro e quindi che cos'è di incredibile e di impensabile per la Juventus vincere gli scudetti figurati li vinciamo dal 1905 cioè ne abbiamo vinti nove di fila ok ma ne avevamo già vinti tantissimi quindi non è che che cosa c'è di impensabile perché poi questo ti sembra normale far apparire normale vincere gli scudetti mentre vincere non è normale come dice anche Allegri e non basta il campo anche fuori dal campo tipo fuori dal campo che si è fatto una nuova identità visiva cioè il nuovo logo bellissimo ad alcuni giustamente non piace ma può anche può anche può piacere o non piacere ma dobbiamo freggiarci di questo il nuovo logo e quindi che beneficio ha dato il nuovo logo alla Juventus e ormai è un logo sporco è un logo che si è macchiato irreversibilmente irrimediabilmente e come lo ripulisci questo è il logo mentre quello del 2004 che fu adottato nel 2004 e che è stato sostituito nel 2017 il precedente di questo fu macchiato da Calciopoli fu il logo di Calciopoli questo adesso è il logo dell'inchiesta Prisma è il logo delle plus valenze e quindi la nuova identità visiva macchiata l'avesse almeno preservata e poi nuove e moderne infrastrutture ma perché le ha fatte lui le ha fatte lui le nuove e moderne infrastrutture l'Allianz Stadium l'ha fatto la triade signori l'Allianz Stadium l'ha fatto la triade lui si è trovato solo ad essere presidente mentre terminavano i lavori mentre terminavano terminavano i lavori e mentre veniva inaugurato ma si è trovato lì non l'ha fatto lui poi le ha gestite queste strutture è stato è stato spostato il centro d'allenamento alla Continassa strutture all'avanguardia ci si allena il Brasile ci si allena quello quell'altro bellissimo tutto fantastico ma le ha pagate Exor queste cose anche il fatto di aver acquisito il G Medical di aver acquisito il G Hotel sono tutte operazioni finanziarie di Exor grazie ad Exor che ci ha messo i soldi di che parliamo? queste cose ovviamente non si possono dire lo sguardo a mondi altri dal calcio ma qualcuno mi trattiene dei mani ferme perché sennò potrei schiaffeggiare degli oggetti cioè i mondi altri dal calcio cioè che dove siamo andati su Marte che abbiamo fatto? siamo andati nel sottosopra siamo andati in un'altra dimensione quali sono i mondi altri dal calcio? tutte quelle buffonate dei DJ allo stadio oppure di musicisti di nicchia alla fine perché non sono neanche di fama internazionale che indossano le nostre maglie quando fanno il DJ set di qua e di là oppure perché avete fatto una sede non si sa che cosa deve fare a Hong Kong o perché avete fatto le tournee all'estero quali sono i mondi altri dal calcio? le collaborazioni i crossover commerciali delle maglie la maglia Palace quali sono i mondi altri dal calcio? ma di cosa? come progetti sportivi mai visti in Italia quali sarebbero i progetti sportivi mai visti in Italia? la seconda squadra l'Under 23 è un progetto sportivo mai visto in Italia o la Juventus Women che è una normalissima società di calcio femminile come tante altre pure il Milan ha rilevato il titolo sportivo del Brescia e la Juventus Women ha rilevato il titolo sportivo del Novara all'epoca quindi qual è il progetto progetti sportivi mai visti in Italia? ma di che state parlando? che qui ci fosse stato un progetto sportivo della prima squadra serio uno serio della prima squadra addirittura ci freggiamo di più progetti sportivi mai visti ma non li avete mai visti voi? ma non li abbiamo mai visti nel senso che non esistono mai visti perché non esistono ed è frutto di quella visione la spinta al futuro come tratto distintivo l'Iva Head addirittura ci avevano fatto un profilo Instagram non pubblica più nulla da mesi perché giustamente cosa dovevano più pubblicare? hanno ripreso Allegri riprendi Allegri e fai il live ahead la spinta verso il futuro cioè qui stiamo ad un proclama autoreferenziale ad un proclama miope a voler essere gentili miope rispetto alla realtà delle cose che dovrebbe essere comunicazione istituzionale allora sono andato anche già troppo lungo per quanto riguarda il post ma capite che allora gli altri concetti gli altri passaggi intanto il discorso che appunto probabilmente qui si tratta di cambiare anche lo staff amministrativo cioè devi cambiare anche lo staff amministrativo perché se c'è lo staff amministrativo di prima che si mette a fare i post in questo modo fedele alla vecchia alla vecchia guida mancando anche di rispetto forse alla nuova non lo so perché c'è a un certo punto c'è stato un avvicendamento ci dovrebbe essere un avvicendamento allora chi è che guida la Juve ripeto chi è la Juve in questo momento quelli che sono rimasti legati ad Andrea a loro presidenza ad Andrea o c'è una una struttura istituzionale che fa le cose in un certo modo quindi probabilmente c'è bisogno anche di un cambio di staff amministrativo oppure di uno staff amministrativo che sia oggettivo oggettivo io posso capire l'affetto nei confronti di un presidente che hai avuto per tanti anni ma deve essere una cosa relegata all'ambito all'ambito interiore cioè gli mandi una bottiglia gli mandi una bottiglia gli fai un regalo di Natale gli mandi i saluti gli mandi un abbraccio quello che vuoi gli mandagli un vocale ma non è che devi fare queste cose questa è comunicazione istituzionale è rappresentanza della Juve come tutti i milioni di tifosi nel mondo che non sono d'accordo con questa cosa non tutti sono d'accordo con questa cosa e tu ti devi fare rappresentante di quello ma d'altra parte vediamo che infatti giornalisti agnelliani ci sguazzano adesso in questa cosa e purtroppo esistono giornalisti agnelliani come tifosi agnelliani e lo vediamo dalle reazioni al post su Twitter che per carità sono anche divertenti alcune anche tifosi giuventini si sono posti in maniera contraria a questo tipo di comunicazione quindi l'hanno criticata l'hanno contestata hanno fatto battute hanno fatto sarcasmo poi però ci sono anche i tifosi delle altre squadre che hanno anche un po' offeso o hanno riso di questa cosa dicendo che si tratta di una cosa ridicola e i tifosi della Juve con i cuoricini grazie presidente che bello il palmares non ti dimenticheremo sei un grande fino alla fine e tutti quanti slogan per carità ci sta massimo rispetto è un punto di vista però spero che questi tifosi e chiudo perché veramente se no vado troppo per le lunghe spero che questi tifosi non si dimostrino troppo agnelliani che dimostrino invece di mettere e considerare la Juve al primo posto perché ci hanno fatto hanno provato a farci la lezione per anni sul fatto che bisogna tifare la Juve sempre mai tifare contro la Juve non tifare per gli allenatori non tifare per i giocatori non tifare per i dirigenti ma solo per la Juve e poi puntualmente succede quello che sta succedendo e stanno ancora lì a sbavare per Andrea nostro presidente gente della Juve la visione il futuro la cifra distintiva gli altri mondi e tutte queste cose campate in aria a dir poco quindi mi auguro come dico sempre che ci sia un'evoluzione mentale e culturale più culturale che mentale della tifoseria vista tutta questa situazione e che si possa finalmente criticare un presidente che ha fatto tanti danni e lo stiamo scoprendo chi non l'aveva ancora capito e di conseguenza anche guardare avanti prendere le distanze senza per questo calpestare la Juve o disconoscere la Juve ed andare avanti anzi chi sta calpestando e disconoscendo la Juve oltre questi dirigenti che hanno fatto cose discutibili è anche chi continua a parlare di Andrea nostro presidente invece di rappresentare la nuova Juve che viene la nuova Juve che avanza siamo ancora legati quindi se tanto mi dà tanto se fosse rimasto Agnelli dopo un eventuale esonero di Allegri gli avrebbero fatto per il buon compleanno un post di questo tipo cioè proprio siamo veramente nel 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 multiverso o nel metaverso quello che preferite siamo veramente in un'altra in un'altra dimensione fantastico in realtà no in realtà per niente direi avvilente grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sugli auguri di buon compleanno al mitico fantastico bello bellissimo bravissimo presidente di noi gente della Juve Andrea Agnelli like al video se vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi al canale a partita da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei prossimi video in uscita live in esclusiva video in anteprima e tanto altro ci vediamo molto presto e sempre forza Juve